Il progetto Una Conca di Libri, un libro per te e un libro per me, è nato fondamentalmente per creare uno scambio di libri. Un progetto che lo troviamo in tutte le città italiane e mancava bagheria, allorché da questo mi è venuta l'idea di proporlo all'amministrazione, infatti è stata molto abbenevola nel patrocinarlo e fondamentalmente si tratta dello scambio dei libri. Partiremo con una giornata iniziale dove raccoglieremo i libri donati dalla cittadinanza, verrà offerto in omaggio a chi avrà questa gentile offerta, e verrà donato un segnalibro dell'evento per incrementare una sorta di libreria. Da settembre in poi il progetto entrerà nel vivo con giornate di ogni fine mese che si proietteranno allo scambio del libro. È rivolto a tutta la cittadinanza, avvieremo anche con le scolaresche, con la scuola lavoro. Fondamentalmente vogliamo incrementare la cultura tramite il libro, che è un oggetto fondamentale della nostra storia culturale, e soprattutto far rivivere nel libro, il libro letto e magari messo da parte da ognuno di noi, farlo rivivere nelle mani di qualcun altro. Questo è il progetto in sé, avrà diverse giornate fino a concludersi, a una giornata che sarà la nostra giornata del libro di bagheria, dove avremo diversi eventi e organizzeremo diversi eventi in quella giornata che man mano andremo a spiegare.